La montagna capovolta, la migrazione narrata dei bambini. Si chiama così il nuovo libro scritto da Francesca Lamantia, un racconto forte e commovente sul disastro di Marcinelle che ripercorre la storia dei minatori dei paesi della Magiella e immigrati in Belgio in cerca di lavoro e di un futuro migliore spesso pagato a caro prezzo. Uno sguardo capovolto, quello che il padre cerca di far capire alla figlia, è un gioco, è un gioco di speranza e di coraggio. Qualsiasi padre che voglia bene una bambina, quando deve scendere in una miniera e tornare nero a casa in un paese strano perché non conosciuto com'è il Belgio, cosa può raccontare la sua figlia vissuta nelle vostre bellissime montagne? Che probabilmente questa miniera sia una montagna capovolta e che scendendo possa vedere le stelle. Un libro che con fantasia, semplicità e leggerezza entra nei cuori, come hanno detto i figli dei superstiti che hanno letto le pagine, dei bambini, dei ragazzi e degli adulti per spiegare che i migranti di oggi siamo noi, i migranti di ieri. Noi facciamo forza e leva sulle nuove generazioni, coltivando la memoria storica affinché questi bambini che hanno avuto modo di conoscere già la scrittrice possano poi a loro volta tramandare quelle che sono le nostre tradizioni. Tradizioni che si legano a due elementi fondamentali, l'abbiamo ripetuto in modo assiduo in questi giorni, a due elementi. La pietra bianca della maiella che viene scolpita ma anche alla pietra nera, che è la pietra dei minatori, quella che estraevano dalle miniere con sudore e sacrificio. Ed è un nostro diritto di amministratori ma di uomini far conoscere quella che è stata la nostra storia, ripercorrerla e far sì che non ci siano più gli errori che ci sono stati nel passato. Quindi è importante puntare sulle nuove generazioni. Grazie a tutti.